Vi auguro la buonanotte con questo messaggio. Arcangelo Michele, io sono con te, ti infondo il coraggio necessario per compiere i cambiamenti esistenziali che ti aiuteranno a realizzare lo scopo divino della tua vita. Sono venuto da te perché hai chiesto sicurezza e protezione a Dio e perché desideri avere informazioni sullo scopo della tua vita. Dal momento che sei un operatore di luce, Veglio, sulla tua realizzazione di questo scopo divino. Sei un operatore di luce da molto tempo e in alcune occasioni ti è capitato di sentirti diverso e isolato dagli altri. Stai pur certo che non sei mai stato solo e che non lo sarai mai. Quando ti senti spinto a realizzare un cambiamento sul lavoro o in casa, sappi che potrebbe essere l'effetto dalla mia influenza che ti incoraggia a rendere lo scopo della tua vita una priorità assoluta. Posso riorganizzare i tuoi impegni e sostenerti in altri modi al fine di rendere il tuo percorso agevole e armonico. Ti basterà chiedere e ti sarà dato. Ti aiuterò inoltre a sentirti sicuro e a tuo agio nel corso dei cambiamenti della tua vita. Questo è il messaggio per augurarvi la buonanotte.